Il lutto la comunità ortodossa della Vallata Stilaro per la dipartita del metropolita greco dell'Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e di Malta, Gennadius Zervos, di anni 83. Ad annunciare la morte è stata la stessa Sacra Arcidiocesi Ortodossa con un comunicato rivolto al popolo cristiano. Oggi, mercoledì, saranno celebrati i funerali a Venezia. Con la venuta del monaco Cosmas al monastero di San Giovanni Teristis nel 1994, Gennadius ha cavalcato il dialogo tra la Chiesa d'Oriente e d'Occidente e parte proprio da Bivongi la ricostruzione di quel ponte per raggiungere l'ecumenismo. A metà degli anni 90 del secolo scorso giungeva sempre al monastero di Bivongi in occasione delle celebrazioni di San Giovanni Teristis. A ricordare di metropolita, padre Nilo Quattopedino, artefice del ritorno dei monici ortodossi in Calabria. La personalità del metropolita Gennadius Zervos, dice padre Nilo, da 60 anni in Italia e da un quarto di secolo preposto alla diocesi greca d'Italia, è stata caratterizzata dal patriarca Bartolomeo, suo amico negli anni giovanili, nella fedeltà alla Chiesa di Costantinopoli. Per l'opola svolta da Gennadius in Calabria, continua padre Nilo, è giunto con entusiasmo ai monasteri di San Giovanni Teristis a Bivongi, dei Sant'Elia e Filareta a Seminare, di Sant'Elia a Melicucà, dell'Annunciazione a Mandanici in provincia di Messina e nelle parrocchie calabresi e siciliane. Non va dimenticata nel 2001 la sua spinta per favorire la vista di Bartolomeo in Calabria con pellegrinaggio ai monasteri ortodossi della Maglia Grecia, al monastero di Bivongi e all'eremo di Montestella di Pazzano. Certo, non sono stati tutti i fiori perché qualche neo l'ha lasciato, tanto che per gli studiosi e gli storici locali Gennadius è registrato, come il metropolita che è allontanato dal monastero di San Giovanni, padre Cosmas, il primo monaco del Monte Athos, ritornato in Calabria dopo lo scisma del 1054. Allontanamento che non ha permesso agli ortodossi greci di continuare il loro percorso iniziato a Bivongi nel 1994 perché subito dopo il monastero è stato abbandonato. Si tratta di decisioni tutte approvate da Costantinopoli, continua padre Nilo. D'altronde, come il patriarca Bartolomeo ha evidenziato, il defunto costituisce sempre emblematico di vescoli interpreti, innanzitutto dalle prospettive perseguite dalla corrispettiva leadership ecclesiastica. Oggi, dai cristiani, dobbiamo pregare innanzi alla morte di questo pastore ricordando, piuttosto, l'amore che ha nutrito per la Magna Grecia. Supplichiamo dunque il perdono di Cristo per ogni mancanza volontaria e involontaria in modo di accoglierlo in Paradiso. Bartolomeo I ieri e ancora oggi si trova in Vaticano per ricevere onorificenza e in tanti si chiedono se sarà presente alle esequie del suo amico Gennadius. Alla domanda risponde sempre padre Nilo che dice Il programma funebre di oggi non lo prevede. In questi giorni il patriarca risulta impegnato a Roma per importanti eventi, incontri con Papa Francesco e con i rappresentanti di tutte le religioni per promuovere pace e fratellanza universale. Inoltre a Bartolomeo verrà conferita un'ulteriore laurea onorissi causa. Probabilmente, conclude padre Nilo, la sua presenza a Roma e i noti rapporti che lo univano al defunto Gerarca inducono a non escludere nell'imprevista arrivo a Venezia consolatorio per il clero e il popolo privato del metropolita Gennadius, primo vescovo ortodosso in Italia dopo secoli.